I 125.000 euro a Mediterranea erano soltanto una donazione per ringraziarli dell'aiuto. E' così che si giustifica la MERSC Tankers, società danese lambita ma non coivolta dall'inchiesta della procura di Ragusa per i soldi bonificati alla mare Ionio a seguito del trasbordo di 37 naufraghi salvati dai danesi il 5 agosto e poi trasferiti sul rimorchiatore dell'organizzazione che si batte per il salvataggio dei migranti nel canale di Sicilia. Un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione che vede tra i quattro indagati anche il triestino Alessandro Mez, armatore della nave e in passato consigliere regionale per i verdi in Friuli Venezia Giulia. Secondo la procura, stando a quanto riporta il gazzettino, la prova dell'accordo economico tra le parti starebbe in una fattura da 125.000 euro emessa dalla Hydra Social Shipping di Trieste a favore della MERSC Tankers, quello allegato al relativo bonifico bancario della Danimarca all'Italia per servizi marittimi. Nulla di più falso secondo i vertici del gruppo di Copenhagen, secondo cui il trasferimento dei naufraghi è avvenuto solo a causa delle loro precarie condizioni sanitarie che richiedevano cure urgenti. Mentre per quanto riguarda il pagamento si sarebbe trattato solo di una forma di ringraziamento a distanza di mesi dall'operazione deciso a favore di Mediterranea per permettergli di coprire parte dei costi sostenuti.